Per lui, scivola e allora Lucio può allontanare, Snyder mette giù, palla giocata su Zanetti e riparte in contropiede il capitano che se ne va, se ne va Pupi, se ne va da solo, se ne va, vanno in porta capitano, vanno in porta capitano, vanno in porta capitano, inseguito da Iepes, entra in aria, guarda nel fondo, Murato in corner, applausi, applausi, applausi per la grande percussione del capitano, 70 metri in palla al piede.